Sono 16 in provincia di Perugia e almeno 2 in quella di Terni le sezioni istituite in Umbria per consentire ai positivi al Covid il voto nelle prossime elezioni politiche. In base ai dati della Regione, aggiornati al 23 settembre, in isolamento domiciliare per il virus ci sono 3.501 persone. In Umbria sono in totale 662.094 gli elettori a 20 diritti o al voto che si svolge la domenica dalle 7 alle 23 nei 92 comuni nei quali sono stati allestiti un totale di 1.004 seggi. I votanti per la provincia di Perugia sono 490.922. Di questi 237.403 uomini e 253.519 sono donne. Per il comune del capoluogo Umbro gli elettori sono 121.568. Sono invece 171.172. Quelli totali nella provincia di Terni, 82.355 nel capoluogo. Per quanto riguarda le sezioni elettorali, nel Perugino sono 710 e distribuite su 59 comuni della provincia. 159 seggi per Perugia, comprensive di 5 ospedaliere a Città di Castello 1, Foligno 1 e Perugia 3. Sono invece 16 i comuni, ha preso l'Agenzia Nazionale di Stampa dalla Prefettura di Perugia, in cui saranno istituiti seggi Covid. In caso di richieste dell'ultimo minuto, saremo in grado comunque di garantirne altri, ha stato specificato. Nei 33 comuni della provincia di Terni le sezioni sono 294, comprensive anche di luoghi di cura, Acquasparta, Amelia, Baschi, Castelviscardo, Giove, Quardea, Lugnano in Teverina, Monte Gabbione, Narni, Orvieto o Tricoli e Terni, ospedalieri Narni, Orvieto e Terni e di detenzione Orvieto e Terni. A questi, ha preso l'Agenzia, si aggiungeranno anche due seggi Covid negli ospedali di Orvieto e Terni.